Grazie a tutti. Io credo che bisogna ben distinguere tra regione e regione, noi abbiamo regioni di 10 milioni di abitanti come la Lombardia, la Norvegia di cui abbiamo letto sui giornali la terribile strage in questi giorni ha 5 milioni di abitanti, quindi abbiamo regioni di 10 milioni di abitanti, regioni di 8 milioni, regioni di 7 milioni e regioni di 400 mila abitanti. Allora il problema si pone diversamente, dove la regione ha i 10 milioni di abitanti o di 5 milioni di abitanti è chiaro che la regione da sola non riesce a svolgere le funzioni di ente intermedio tra il comune e la regione stessa. Laddove la regione è di 400 mila abitanti, penso Basilicata, penso 800 mila, penso l'Umbria, penso il Molise e lì è chiaro che la provincia non ha senso, quindi bisogna distinguere tra una cosa e l'altra. Secondo, io credo che un'assemblea dei sindaci che gestisca insieme i servizi, pensiamo ai rifiuti, pensiamo a alcune cose, può essere molto utile. Guardate la storia dei costi, anche qui è una balla che ho raccontato, perché i 60 mila dipendenti delle province ci sono e chiaro che si mandano a casa di domani. Il problema è dei costi dell'apparato politico, questi sono ridotti ma ci sono, però appunto se si sostituisse il consiglio provinciale con l'assemblea dei sindaci, dei circondari, io credo che sarebbe una cosa utile. Però, ripeto, bisogna distinguere la ragione per la quale noi non abbiamo votato la cancellazione, che tra l'altro non abbiamo cancellato nulla, perché soltanto cancellano la parola, non cancellava l'istituzione. E questa, perché bisogna distinguere tra realtà e realtà, attualmente nel mio attuale Piemonte, dico mio perché sono pugliese, ma ormai da 40 anni sto in Torino, quindi, Piemonte, eliminare le province vorrebbe dire portare comuni che sono lontanissimi da Torino ad avere un rapporto con una realtà che non li capisce neanche, perché non sa bene cosa sono. In Lombardia è lo stesso, io credo che in Umbria sia un po' diverso e credo che in Molise o in Abruzzo sia diverso, quindi distinguere da realtà credo che sarebbe utile e il tipo di proposta che noi abbiamo è questo. Ecco, quanto pesano nel nostro paese le corporazioni? Moltissimo, guardate, moltissimo e soprattutto sono un enorme blocco al prevalere del merito. Se ancora oggi io per fare l'avvocato, essere figlio d'avvocato, per fare il notario, essere figlio di notario, per fare l'architetto, essere figlio di architetto, questo è un blocco allo sviluppo del paese. E' un coperchio sul paese. E guardate, rompere le corporazioni è una cosa più complicate ma che vanno fatte. Uno dei paesi dove certamente c'è maggiore disuguaglianza, gli Stati Uniti, ma dove c'è maggiore possibilità che chi parte da zero arrivi al vertice, è un paese che non ha corporazioni. E' un paese che riconosce il fatto che una persona possa andare avanti perché è capace. Io credo che noi dovremmo porre questa questione del merito, della capacità, perché il vero meccanismo dell'uguaglianza è quello che si fonda sul riconoscimento del merito. Perché se io non riconosco il merito, in base a che cosa vado avanti? In base alla famiglia? In base a quello che fa mio padre, che fa mio zio, che fa mio nonno? O in base alla clientela alla quale appartengo? E questo problema è un problema, a mio avviso, fondamentale. E credo che debba essere anche fatto, come dire, a questo punto, anche un ragionamento con pezzi di società italiana. Perché le corporazioni professionali sono mica cosa da poco, insomma, no? E io credo che quindi questo discorso di guardare l'uguaglianza dal punto di vista del merito, non dal punto di vista dell'appiattimento, la tutela moderna del principio di uguaglianza e di conoscimento del merito che è il grande ascensore sociale della società moderna. E quindi lottare contro le corporazioni, contro i blocchi delle corporazioni, io credo che siano dei compiti difficili, ma che insieme ai cittadini il centro-sinistra deve assumersi come obiettivo da perseguire. L'ultima parte della nostra chiacchierata vorrei dedicarla al rapporto fra politica e magistratura, che è un rapporto, diciamo, sempre più conflittuale, di qualche giorno fa l'ennesimo intervento del Capo dello Stato che invitava da una parte i pubblici ministeri a utilizzare, quando assolutamente dispensabili, lo strumento delle intercettazioni, anche quello della carcerazione preventiva, e dall'altro la politica a non delegittimare la magistratura. È un conflitto questo destinato a non finire mai, secondo lei? Ma io credo questo, che innanzitutto, come dicevo prima, non c'è un punto di responsabilità politica nel nostro mondo, e quindi tutto diventa responsabilità giudiziaria. Fatemi fare una riflessione. Nella cosiddetta Prima Repubblica accadeva che cosa? Che quando un ministro democristiano era messo sotto accusa, il partito lo difendeva a spada tratta, ma la volta successiva, lui era fuori, dopo sei mesi, perché i conveni duravano un anno circa, accadeva questo, cioè c'era un punto, sia pure come dire, gestito in modo un po' oblicuo di responsabilità politica, oggi no. Questo è un problema dei partiti ed è un problema delle istituzioni. Allora, il peso che ha la magistratura nella vita politica dipende per un verso dei livelli di corruzione che sono presenti nella vita politica. Per altro verso dipende dal fatto che la politica non ha dentro di sé gli strumenti, non si è voluta dare gli strumenti per mettere da parte i soggetti a rischio. E quindi, come dire, oggi la magistratura si trova ad avere questo peso. C'è un punto però, guardate, io devo dirvi sinceramente, stimo Vendola, credo che lui faccia bene, ecco però, se un magistrato ha fatto il magistrato fino al giorno prima in Puglia, non può fare, scusatemi, l'assessore regionale in Puglia. Se un magistrato ha fatto il magistrato a Napoli, in Campania, fino a ieri, non può fare l'assessore alla regione. C'è un punto, non è vietato da nessuno, ma c'è la coscienza delle persone, è quello che abbia un peso nella vita delle persone, dei cittadini. Se io mi aspetto dal magistrato, perché la quantità di poteri che un magistrato esercita, discrezionali, sono talmente vasti che non ci deve essere mai il minimo sospetto che egli li abbia gestiti a fine di parte o al fine di costituirsi un ritorato presso un ceto politico. E per cui questo problema dei comportamenti pertine, disse una volta, a noi allora lo facevo il magistrato, no, lo facevo, sì, lo facevo il magistrato allora, disse, non basta essere indipendenti, bisogna apparire indipendenti. Apparire indipendenti. E guardate, questa cosa mi è rimasta molto impressa, perché a me personalmente è capitato che quando sono stato eletto in Parlamento, nel lontano 79, ho deciso, mi sono dimesso poi dalla magistratura due anni dopo, nell'81, ho fatto il concorso a cattedra, ho vinto la cattedra di dito penale, mi sono dimesso. Perché? Perché io pensavo, non pensavo di starci 30 anni naturalmente, pensavo di starci in due legislature, come tutti. io mi sarei sentito indipendente, ma chi stava di fronte a me non ci credeva, che avevo fatto per un certo numero di anni ero stato un uomo di parte. E io credo quindi che questo dato deve essere, ecco, anche la magistratura su questo punto deve essere molto rigorosa su questi dati. C'è poi il punto che ho, su quale ho molte cose da dire, insomma, il rapporto tra informazione e giustizia. Lasciatemi ripetere una cosa che dico da tempo, ci sono carriere giudiziarie costruite sui mezzi di informazione e carriere giornalistiche costruite nei tribunali. A volte, quando si vede un giornalista che ha scritto un pezzo, si capisce che il magistrato ha chiedato la notizia. E questa cosa non va bene. Non tutte le notizie che vengono pubblicate vengono dai magistrati, si è ben chiaro, vengono dalla polizia, vengono dai cancellieri, molte sono giuste perché erano pubbliche e quindi sono state giustamente date, dagli avvocati e così via. Però, ecco, c'è un punto che a me preoccupa, è questo. Delle fughe di notizie che costruiscono un reato, non si è scoperto un solo responsabile. E se le nostre forze di polizia e nostra magistratura sono in grado di arrestare Rina, di arrestare i grandi capi della criminalità e così via, io credo che saranno capaci anche di arrestare qualcuno che dà illegalmente le notizie. Perciò la mia tesi è che quando c'è una fuga di notizie illegale, non quelle legali, illegale, a investigare, non deve essere l'ufficio giudiziario dal quale la notizia è uscita. Cioè, se è uscita da Bari, non deve essere Bari, deve essere un altro tribunale a indagare, perché evidentemente io non indago né su me stesso, né sul mio collaboratore, né sulla mia polizia, né sugli avvocati che vedo ogni giorno e così via. Cioè, sono un po', sono meno fermo nell'indagine. E questo credo che... Poi dopo c'è un costume, se mi permette, dell'informazione. che questo pubblicare paginate di... Io parlo, mi scusi se non si sento... di giornalismo di trascrizione. Giornalismo che consiste nel trascrivere verbali giudiziari, nel trascrivere contenuti di telefonate. Che non c'entrano molto spesso niente con le imputazioni, ma che sono allettanti. Che magari sono un uomo e una donna che si parlano tra loro di affari loro intimi, perché c'è un qualche aspetto prude. E guardate, qui capisco che la regola deve essere di tutti. Perché è come nel poker, se uno bara o barano tutti, o quello che bara vince. Però qui c'è una questione, perché voi giustamente contestate quelle che chiamate la legge Bavaglio. Però volete darvi voi giornalisti delle regole? E osservarle? Io cito un esempio. Prima ancora che ci fosse scritto che parte, avete deciso a un certo punto di non pubblicare più la carta di Treviso, credo che si chiami, di non pubblicare più il nome dei bambini e le foto dei bambini coinvolti in vicende giudiziarie. Ma quello fu un impegno che prendeste, avete osservato. Da tempo non si pubblicano più i nomi delle donne oggetto di violenza. e nelle foto. E credo che sia un fatto di civiltà, e va bene. Ma allora non potete fare un altro passo avanti e assumere un'intesa in base a quale... Perché guardate, questo io l'ho visto solo in Sud America, le paginate di cose. Non succede in nessun altro paese, perché c'è più considerazione e più stima. Io spero, non voglio una legge su questo, però vorrei un'autoregolamentazione da parte di tutti quanti voi. Questo rientra anche in un processo di autoriforma delle professioni, compresa la nostra, e delle corporazioni. Fermo restando, credo che tutti noi dovremmo trarre anche qualche lezione, e concludo qui, da quella che è stata la reazione dell'Inghilterra alla scoperta del modo illegale con cui venivano intercettati personaggi pubblici da parte di un giornale. Qui non c'entra nulla la magistratura, però comunque la reazione del paese, dell'istituzione di quel paese, credo debba essere una lezione per tutti noi, o no? Sì, io credo, lì si è scoperto che praticamente c'era il giornale di Mardoch che pagava spie per controllare, per intercettare le conversazioni telefoniche e d'accordo con alcuni esponenti di Scotland Yard, della polizia di Londra, assumere informazioni che poi dopo pubblicavano sul giornale, che era un giornalaccio, insomma, un giornale che veneva però molte, sì, milioni di copie, stiamo parlando di un giornale di grandissima diffusione, insomma, Così, però, c'è stata una reazione, devo dire, ma credo che ci sarebbe stata anche da noi se un giornale avesse fatto le stesse cose, lì la magistratura come diceva, non c'entra un'altra cosa. Io credo, stiamo finendo questa conversazione, ringrazio voi tutti, ringrazio anche il giornalista che è stato così cortese di Repubblica da essere con noi stasera. Guardate, abbiamo davanti, io credo, alcuni mesi di lavoro, parlo del Partito Democratico, di lavoro duro. Non pensiamo che le disgrazie degli altri debbano automaticamente tradursi in vantaggi per noi, non è così. Non è stato così nel 94, può non essere così neanche oggi. certamente tra Lega e PDL ci sono dei problemi gravi, guardate, questa questione dei ministeri a Monza, non pigliatela per una bufala, è una cosa grave, non è mai accaduta nella storia di nessun paese, di nessun, non di italiano, di nessun paese che un partito di governo senza che lo stabilisse nessuno abbia portato i suoi uffici in un altro posto del paese a proposito dei costi della politica per capirci, Ecco, a proposito dei costi della politica, i suoi uffici in un paese e quindi i cittadini che vuol dire? Che i cittadini di Monza hanno il ministero sotto casa e quelli di Palermo devono andare fino a Roma o fino a Monza e parlare con il ministro? Cos'è sta storia? Ma dove sta scritta questa cosa? Che io ho al muro la foto di Napolitano e la foto di Bossi? Ma guardate, queste sono cose tutt'altro che secondarie e non parlo come meridionale, parlo come cittadini italiani, come tutti quanti noi, come ciascuno di noi che vede in questi segni apparentemente come dire minori simboli e il simbolo è qualcosa che rappresenta un'altra cosa e la rappresentazione dell'altra cosa che non si vuole dire è la rottura dell'unità nazionale e questa è una cosa che dobbiamo tenere dobbiamo combattere con forza contro questa cosa e devo dire anche agli amici ai colleghi agli avversari del PDL qui in Pugli dobbiamo dire con chiarezza anche questo anche questo e molti di loro guardate molti di loro l'hanno detto se guardate il giornale di oggi voi avete un pezzo proprio su questo sulla reazione che molti deputati dei senatori del PDL hanno avuto ma io credo che non dobbiamo godere di questo questo è un dato nazionale è un dato di parte se una forza di governo che ha in mano come diceva Golden Share perché dalla Lega dipende se il governo sta in piedi o no approfittando chi ha questo dato va bene mette in campo operazioni di questo genere e anche la vicenda di Papa lasciatemelo dire io non so se bisogna fare sì o no però se io faccio se io voto perché una cittadina vada in carcere non perché ritengo che sia giusto ma perché devo dare un segnale al mio alleato devo rompere il mio alleato questa è una cosa profondamente immorale lasciatemelo dire è chiaro? perché io non posso giocare con la vita di una persona sulla base delle cose se ritengo che sia giusto per carità noi abbiamo spiegato detto eccetera perché stiamo giusto e va bene però se la cosa si gioca sulla base come dire io devo provare di stare con Maroni invece con quell'altro no guardate la vita delle persone è un'altra cosa perché se giocate così con la vita di quello lì potete giocare così anche con la nostra e si spiegano tante altre cose e allora ecco occorre occorre quello che in televisione come dire occorre è una fase di argomentazione discutere parlare non per l'applauso ma per l'etica della persuasione permettetemi di dire questo l'etica della persuasione cioè la politica come strumento e mezzo per comunicare i propri argomenti e convincere non costringere convincere e confrontarsi attraverso questo metro i mesi che abbiamo davanti saranno mesi in cui dobbiamo essere preparati lo dico alle ragazze e ragazzi soprattutto preparati c'era sull'unità permettetemi un riferimento ad una parte del PD sull'unità prima versione di Gramsci c'era una frase di Gramsci scusate sotto che diceva istruitevi perché abbiamo bisogno di tutta la vostra intelligenza cioè l'intelligenza non basta bisogna istruirsi anche perché la vera forza del popolo è nel sapere guardate mi ha colpito abbiamo un minuto ancora? no no questo no poi diventa sadismo no guardate io voglio parlare della scuola non so se qui ci sono insegnanti però guardate c'è una cosa sulla scuola che mi ha colpito profondamente mi colpisce profondamente io credo molto nella scuola pubblica come luogo di trasmissione non solo di conoscenze ma di valori bene quando io sono uscito dalla quinta elementare credo anche quando è uscito Pinuccio Rossiello questa generazione è uscita la nostra classe si divise in due parti una parte che aveva i genitori che potevano mantenere i figli agli studi si diceva così non so se vi ricordate che facevano la scuola media poi facevano il ginnasio il liceo l'università e c'era una parte che appartenera a una famiglia che non potevano mantenere i figli agli studi e quelli facevano l'avviamento che voleva dire che c'era sapete che voleva dire che c'era una distribuzione del sapere in relazione all'avere se io avevo di più potevo sapere di più se io avevo di meno dovevo sapere di meno e sapete perché? perché i citi reazionari hanno sempre capito che se qualcuno ha di meno e sa di più quello diventa lo strumento del cambiamento sociale perché conosce la subalternità e ha gli strumenti per superarla il sapere la conoscenza e la cosa che permette mi umilia profondamente vedere che la scuola sta tornando a quei modelli nel quale il sapere è proporzionato all'avere che la scuola pubblica non gliene frega niente perché tanto se ho i soldi mando i figli a studiare all'estero o mando i figli nella scuola dove si paga è questa cosa che non va questa deve essere una grande battaglia di tutti quanti noi e io devo dire voglio dire una parola di stima e di apprezzamento per gli insegnanti che in questa situazione di enorme difficoltà continuano a fare il loro mestiere di trasmissione di valori e di conoscenze non solo di conoscenze e di valori insieme e la difficoltà è grave perché quello che c'è nella scuola i ragazzi e le ragazze non lo trovano fuori trovano un altro mondo fuori allora il problema di superare questa differenziale che c'è tra il valore reale e il disvalore apparente quello del mezzo all'informazione alla televisione dei comportamenti sbagliati e così via e questo è il compito della scuola